All'Intel Future Showcase possiamo visionare un esempio del drone RealSense, di un drone basato su tecnologie Firefly e su tecnologia Intel RealSense, che non è altro che uno dei droni che hanno emozionato tutti all'ultima edizione del Computer Electronics Show di Las Vegas. Come potete vedere su questa base esagonale sono installate delle videocamere 3D con tecnologia Intel RealSense che permettono di visionare lo spazio intorno al drone ricreandolo in 3D e consentendo al drone in fase di volo di evitare eventuali ostacoli presenti nell'area in cui sta avvolgendo il proprio volo. In questo caso abbiamo comunque anche 6 eliche ma l'aspetto più importante veramente di questo oggetto rivoluzionario che sicuramente cambierà il modo in cui interagiremo nel futuro è proprio rappresentato dalle potenzialità di visione circostante garantite dalla tecnologia Intel RealSense.